Castellari capitano dei raggi solaris davanti iscritto la capolista se ne va dietro epici qualcosa di epico effettivamente l'avete fatto abbiamo fatto un bel percorso quest'anno partito l'anno scorso ma due vittorie di campionato in due anni da farci la firma non è che capiterà sempre ce la siamo complicata più del dovuto a dire la verità però 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 ce la siamo meritata la grande ecco sembra un luogo comune dire che è sempre merito del gruppo però effettivamente questa squadra dimostrato già l'anno scorso in promozione di essere sempre unita ci abbiamo a qualche come si chiamerebbe tipo top player ma alla base c'è una squadra forte che voglia giocare insieme che voglia giocare insieme l'abbiamo dimostrata più di una volta quando non è successo abbiamo perso oggi l'abbiamo fatto abbastanza bene ecco un weekend importantissimo per il basket romagnolo lugo è andato in c1 faenza in c2 diciamo che anche faenza sta ritornando ad essere dove li compete ma è la base credo che in entrambi entrambi i casi sono due società abbastanza insomma molto solide che lavorano lavorano bene lavorano bene lavorano sui ragazzi giovani senza cambiare giocatori tutte le volte oggi ragazzi va così ma va bene va bene grazie grazie